Gli ex lavoratori del comprensore altotirrenico usufruiranno della mobilità anche per il 2013, ma la copertura sarà solo per quattro mesi. A darne notizie il sindacalista della CGL, Franco Martino, l'accordo sarà sottoscritto in regione la prossima settimana. Una vittoria a metà, ma la cosa importante è aver scongiurato l'esclusione dalla mobilità dei lavoratori che ne avevano beneficiato per due anni, come proposto precedentemente dalla regione Calabria. Ci siamo riusciti, ad oggi in modo ufficioso le nostre proposte sono state accolte e presumo che nella prossima settimana, subito dopo Pasqua, si provvederà a firmare questo benedetto accordo. Per questi lavoratori sarà garantito l'ammortizzatore in deroga per il 2013, anche se tengo a precisare che in ogni caso la copertura finanziaria è per quattro mesi, quindi fino ad aprile. Ma la burocrazia si sa non guarda in faccia nessuno e al dramma della mobilità si aggiunge anche quello dei pagamenti arretrati. Ancora oggi c'è chi attende le mensilità del 2012. C'è una gran parte di questi lavoratori che purtroppo ancora non hanno ricevuto nulla se non due mensilità. Buona parte, quando meno questi del territorio di Praia di Tortola, dovranno ancora recepire la mensilità di dicembre 2012. E questa sarà erogata dal momento in cui l'Inps provvederà a erogare le due mensilità a tutti i lavoratori che ancora oggi sono privi di questo ammortizzatore sociale. Dopodiché, anzi, contemporaneamente stanno rendicontando la somma necessaria per coprire tutto il 2012 e quindi alla fine di questo giro provvederanno a richiedere la somma al Ministro Fornero, dopodiché inizieranno a pagare le rimanente mensilità. E poi la pressione fiscale che non fa sconti, anche in questi casi. Persone che magari hanno avuto 6-7 mila euro nette di arretrato, nel contempo hanno avuto la bellezza di 1.500-1.800 euro di trattenute, il che per una famiglia, magari per un lavoratore che ha famiglia, ha dovuto aspettare un anno per ricevere questi soldi e poi vedersi trattenute, somme di questo genere, è francamente uno scandalo. Abbiamo denunciato ovviamente come CGL questa situazione, però ovviamente ci sarà molto da fare perché non è che ci siano molte condizioni per poter recuperarle, ma noi in ogni caso ci proviamo come abbiamo sempre fatto.